Siamo all'ospedale Cardarelli per parlare della buona sanità, si dice tanta della sanità, quindi qui abbiamo il direttore Verdoliva. Direttore, ci può spiegare esattamente questo convegno a Cosa Verde. Innanzitutto il primo passo concreto della collaborazione Regione Lombardia-Regione Campania Niguarda-Milano-Cardarelli-Napoli. Isole di Langeras, trapianto autologo delle isole di Langeras per pazienti che con cappa pancreas sarebbero sostanzialmente candidati, anzi direi condannati ad essere insulino dipendenti e invece questa è una possibilità per poter produrre insulina con questa tecnica del professor Ricordi e quindi diamo ai nostri pazienti per la prima volta in Campania, a Napoli, a Cardarelli, la possibilità dell'autotrapianto. Direttore, come dice il presidente De Luca, ovviamente non più quei viaggi della speranza ma bensì i malati si possono curare qui da noi con l'eccellenza che abbiamo qui in Campania. La nostra paziente sarebbe stata trasferita al Niguarda per avere questo intervento, invece lo ha fatto qui, il trapianto è tecnicamente riuscito, io devo cogliere l'occasione per poter ringraziare il Niguarda perché ha veramente supportato il Cardarelli in questo percorso portandoci per mano, guidandoci per mano e dandoci la soddisfazione di poter trapiantare una paziente campana nella sua regione. Direttore, questo gemellaggio quindi è segno ovviamente di interagire sull'eccellenza che dicevamo della sanità in Campania e non solo? Certo, è una sinergia tra i professionisti, noi abbiamo come focus i nostri pazienti, tutti i pazienti negli stessi diritti per cui devono trovare il massimo delle cure e noi siamo stati contenti di aver accompagnato il Cardarelli verso questo percorso. Qui c'è una professionalità eccellente per cui noi ci siamo messi a disposizione e il risultato è veramente ottimo. Direttore, ho visto che hanno fatto tante domande, gli addetti ai lavori, quindi hanno avuto tante risposte. Vogliamo un po' spiegare ai nostri spettatori? Beh certo, la questione per adesso si tratta di una terapia che è focalizzata su alcune tipologie di patologie. Il fatto è che noi abbiamo questa banca dell'isola di Langeras che permette appunto di trattare questo materiale, qui abbiamo le professionalità che sono in grado di trattare questi tipi di pazienti, allora si tratta di creare delle sinergie in modo che comunque il pezzo di Pankeras vada nella vostra banca, venga trattato e poi venga ritrasferito al Cardarelli dove ci sono i professionisti adeguati per poter impiantare queste cellule, per cui questo è una speranza importante per tutti i pazienti. Direttore, ecco, l'ha voluto fortemente questo gemellaggio perché effettivamente qui in Campania non siamo ultimi. No, non siamo ultimi, non dobbiamo mai perdere la speranza di poter fare dei passi avanti, però dobbiamo sottolineare che in Campania ci sono tante eccellenze, dobbiamo farle conoscere, dobbiamo rappresentarle, dobbiamo comunicarle perché i cittadini devono sapere di potersi affidare alle professionalità presenti nella propria regione con fiducia. Direttore, con una buona ovviamente formazione, con dei professionisti veramente si possono risolvere tanti casi qui a Napoli e in Campania. Si possono risolvere tanti casi, noi al Cardarelli, io dico ancora noi, perché mi sentirò cardarelliano per tutta la vita, al Cardarelli fra qualche settimana saranno annunciati dall'avvocato Iervodino e dal dottor Paradiso che restano a condurre questa grande azienda, questa azienda eccellente, il trapianto allogenico per le cellule staminali per il midollo osseo. Quindi questo è un altro passo avanti. Oggi i nostri pazienti andavano fuori e quindi il Cardarelli, la regione Campania, la sanità della regione Campania darà questa ulteriore svolta di permettere e di dare la possibilità ai pazienti campani di avere questi trapianti qui al Cardarelli. Direttore, visto che lei ha aperto il discorso, non ha fatto solo questo, ha fatto tante cose qui al Cardarelli e non solo. Adesso lei ha il compito ovviamente molto più grande, quello del direttore dell'ASLA Napoli 1, quindi farà delle cose grandiosi in questa regione. Io ho l'onore di essere il commissario straordinario dell'ASLA Napoli 1 Centro. Per un manager andare a condurre l'azienda più grande d'Europa, nella sua complessità, nella sua articolazione, vi posso dire che è un sogno. Il presidente De Luca mi ha dato ancora una volta la sua stima, la sua fiducia. Io spero di non deludere lui, ma soprattutto di non deludere la squadra di donne e uomini che mi stanno aspettando e non ultimi, anzi, i pazienti ai quali spero di poter dare un'ulteriore dimostrazione che in Campania è possibile quando ci si mette professionalità, passione e competenza. Direttore, dicevamo professionalità, passione e competenza, quindi questi incontri servono proprio per realizzare questi progetti. Sì, oggi è un esempio di un risultato raggiunto. Sono 24 i tavoli che abbiamo in comune tra Caldarelli e Neiguarda. Questo vuol dire tutta una serie di temi, dall'emergenza e urgenza, all'organizzazione delle sale operatorie, all'organizzazione infermieristica, per i quali due eccellenze, una campana e una lombata, si possono confrontare e crescere insieme. Quindi, ecco, dicevamo, ma come bisogna partire? Con che progetto e con che iniziative? Ma qui è già un anno che stiamo già lavorando. L'obiettivo era quello di portare a un anno il fatto di avere il primo trapianto di Isola di Langers e anche avere una collaborazione su una cute, praticamente, perché noi abbiamo in questi giorni anche dato un pezzo di cute per un ragazzo che aveva bisogno di quella Caldarelli. Per cui i primi obiettivi sono stati già raggiunti, adesso ci sono gli altri. Abbiamo ancora un anno di collaborazione piena e sicuramente ci vedremo entro fine 2019 per sancire un po' tutti i risultati che abbiamo fatto insieme. Direttore, come possiamo concludere questo focus sulla buona sanità? I cittadini della regione Campania si devono fidare delle eccellenze che hanno in questa regione. Non dobbiamo nascondere i problemi, però dobbiamo evidenziare le eccellenze. Mi sembra che a volte i problemi superano di gran lunga le eccellenze che ci sono. Vi posso assicurare che mediamente questo non è vero. Quindi mettiamocela tutta e comunichiamo quanto di buono, di importante, di eccellente c'è nella nostra regione e andiamo nei fieri. Dottor Molino, quindi diciamo con il direttore Verdoliva che è stata una giornata ricca ovviamente di partecipazione da parte degli esperti ma soprattutto del suo. È una giornata di successo per il Cardarelli, per la sanità campana. Siamo riusciti a portare a termine un progetto importante che è quello di fare l'autotrapianto. L'autotrapianto è un'evenienza che è nata da una collaborazione con il Niguarda. Ci siamo confrontati, abbiamo messo insieme i vari know-how e le conoscenze. Il Niguarda ha questa possibilità di selezionare le cellule di Langerhans. Noi abbiamo una chirurgia che fa chirurgia pancreatica ad alto livello. A questo punto ci sembrava utile iniziare a fare anche l'autotrapianto. L'autotrapianto che serve per le persone che operate al pancreas diventeranno diabetiche. Ovviamente questo è il primo passo perché poi si arriverà a standardizzare l'autotrapianto ma a iniziare a fare l'allotrapianto che serve per i pazienti diabetici e dare una speranza a questi. Non più quei viaggi all'estero ma uno si può curare qui in Campania senza subire troppi disagi. Io credo che la Campania non solo in questo campo ma in molti altri campi sia all'avanguardia. Abbiamo dimostrato oggi che non siamo con gli altri ma siamo davanti agli altri perché questo autotrapianto è il primo in Italia a parte la Lombardia. Quindi siamo fieri di dire in Campania riusciamo a fare cose come o meglio degli altri ospedali d'Italia. Dicevamo questi bambini diabetici di tipo 1 che hanno veramente dei problemi quindi questa apertura scientifica come viene accolta? È fondamentale perché finalmente la ricerca arriva a Napoli e grazie al dottore Ciro Verdoliva al quale veramente vanno i nostri ringraziamenti perché ha avuto tenacia innanzitutto attraverso la collaborazione con il Diguarda quindi da questo gemellaggio è nata questa magnifica iniziativa, questa impresa. Noi crediamo molto fortemente nella ricerca e siamo fiduciosi, tanto fiduciosi. Ma soprattutto per questi bambini e familiari che subivano dei disagi, erano smarriti, avviliti adesso si dà soprattutto una risposta? Si dà una speranza perché diciamo che per adesso il trapianto comunque non è aperto a tutti, insomma non è per tutti, però comunque è una speranza per un futuro libero dal diabete. Anche lei come Presidente ovviamente ha portato avanti delle iniziative avendo questa possibilità e dare delle risposte concrete a questi bambini ma soprattutto ai familiari? Sì, diciamo che noi ci stiamo attivando per sostenere la ricerca perché è fondamentale che le famiglie siano sostentrici, sostengono questa causa e quindi l'invito è quello di sostenere la ricerca che è finalizzata alla cura del diabete. Concludiamo questo focus sulla sanità al Cardarelli di Napoli. Un cordiale arrivederci da Mario Orlando. Grazie a tutti.